Abbiamo esplorato prati verdi di mezzo mondo in cerca di miracolosi quadrifogli. Abbiamo evitato gattineri e non siamo mai passati sotto una scala. Addirittura siamo stati felici quando abbiamo posato il piede su una deiezione canina. Abbiamo indossato sempre la stessa maglia e alcuni di noi non l'hanno mai lavata. Abbiamo portato in tasca corna, peperoncini, amuleti, piume. Abbiamo toccato legno, ferro e persino i gioielli di famiglia. Abbiamo baciato dè e bendate e accarezzato signori con la gobba. Adesso solo una cosa farà la tua fortuna. Sei tu. TitanBet, fai la tua fortuna.